Uomini e donne, Armando incarnato attacca Mario e poi scoppia a piangere, il problema sono io. Durante la puntata in onda giovedì 3 ottobre su Canale 5, il Cavaliere si è prima confrontato duramente con Mario Cusitore non condividendo gli atteggiamenti adottati con le dame del programma, mentre in un secondo momento ha dato sfogo ai suoi sentimenti, sentenziando il problema sono io, ormai ho perso proprio la fiducia negli esseri umani. Gli animi si accendono e Armando torna sui rapporti intrapresi tra Mario e Ida Platano e ai successivi sviluppi. A riportare la calma in studio interviene la stessa Maria De Filippi, Armando, tu però non sei qui per parlare di Mario tutto il tempo. Quello che pensi di lui lo abbiamo capito dalla prima puntata, è chiaro, però pensiamo anche di uscire da questo. La puntata prosegue e in un secondo momento la conduttrice cerca un chiarimento con il Cavaliere, quando io ti dico così non ce l'ho con te, ti giuro. Mi hanno detto che ci sei rimasto male e mi dispiace. Parole che danno il via allo sfogo di Armando, il quale non riesce a trattenere le lacrime nell'esprimere il suo stato d'animo, il problema non sei tu, non è Mario e non è il contesto, chiedo anche scusa per i miei toni. Il problema sono io, ormai ho perso proprio la fiducia negli esseri umani, non lo so perché ma non ci riesco. A voi i commenti.